Si è tenuto presso la Casa della Carità di Scilla il convegno dal tema, la Casa della Salute di Scilla, attualità e prospettive verso una sanità metropolitana. Nel corso del convegno, organizzato da Giuseppe Pirrotta, già assessore provinciale, in collaborazione con il senatore Nico Dasco, la presidente della Commissione Giustizia del Senato, i sindaci della Costa Viola hanno convenuto sulla necessità di procedere verso l'istituzione di un tavolo tecnico essenziale per monitorare in maniera capillare le varie procedure che porteranno alla realizzazione della Casa della Salute di Scilla. Ad aprire i lavori, l'intervento di Giuseppe Pirrotta, che ha messo in risalto i ritardi della politica e la necessità di riformulare la convenzione firmata dal presidente Oliverio sulla Casa della Salute in relazione alla nuova normativa sulle opere pubbliche. Intanto dobbiamo chiarire qualche aspetto di natura tecnica e giuridica, perché sembrerebbe quasi che la convenzione firmata l'anno scorso da Oliverio e dal presidente, in seguito alla nuova normativa sugli appalti pubblici, debba essere attivista. La Casa della Salute è sicuramente una grande occasione, una grande opportunità, laddove che comunque necessariamente va inserita in un contesto metropolitano. Quale spazio dare quindi oggi a questo convegno, che parliamo un po' di prospettive di futuro della Casa della Salute di Scilla? Certamente, la Casa della Salute, come dicevo, è una grande opportunità. Accanto alle eccellenze, comunque ereditate dal vecchio presidio ospedaliero di Scilla, è facile immaginarsi, parliamo dell'endocrinologia, parliamo del servizio di centroallergologia e della dialisi. Naturalmente andiamo a pensare un pochino a un servizio di urgenza-emergenza che necessariamente deve essere potenziata, perché stiamo parlando in pratica di una Casa della Salute che viene fuori in un'area a forte vocazione turistica. Scilla non può essere, come sto ripetendo da un po' di tempo, gestita da un punto di primo intervento. Scilla merita un pronto soccorso adeguato. Il Sindaco Ciccone, dopo aver ringraziato Pirrotta per l'iniziativa, ha ribadito che bisogna andare oltre il convegno, assumendo posizioni chiare ed incisive in un contesto di grande difficoltà delle politiche sanitarie. Il Presidente dell'Associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto, Roberto Vizzari, il Dottor Antonio Alvaro ed il Sindaco di Seminare Giovanni Piccolo hanno sottolineato che comunque bisogna fare presto, ribadendo, come vi sia la necessità, che la politica regionale, soprattutto con la sanità, cambi passo con risposte concrete ed immediate. A segnalare la difficile situazione in cui si trova la sanità non solo nell'area della Costa Viola, è stato il Senatore Nicodascola proponendo di intraprendere un percorso condiviso che punti alla costituzione di una rete ospedaliera di eccellenza. La Casa della Salute esiste nella misura in cui esiste una convenzione tra l'Asp di Reggio Calabria e la Regione Calabria, proprio volta alla istituzione, alla realizzazione, per meglio dire, della Casa della Salute. Ciononostante, dopo tanti anni, le cose sono ferme. Cioè dire, la Casa della Salute non è attuata, insomma, non è realizzata. Adesso si pongono anche problemi di adeguamento al codice degli appalti. Insomma, è una procedura che si deve liberare. La Casa della Salute è una realtà, non è una denominazione limitativa. È chiaro che l'ospedale è una realtà diversa. Però la Casa della Salute svolge, nel contesto di una rete ospedaliera che è costituita da ospedali, hub, spoc, case della salute e centri di emergenza e di urgenza, svolge un ruolo non trascurabile, svolge un ruolo, diciamo, che rende coordinata la rete ospedaliera considerata nel suo complesso. È chiaro che a distanza di 10-12 km da Reggio Calabria non ci può essere un altro ospedale, perché non avrebbe senso, data appunto l'evoluzione delle comunicazioni, la facilità di arrivare. Però la Casa della Salute non è un'entità sul versante della tutela della salute trascurabile, perché svolge un ruolo importante se si guarda alla quantità dei servizi che una Casa della Salute può rendere e soprattutto se si tratta, per come deve trattarsi, di servizi che valorizzino anche la vocazione turistica di Scilla e quindi la necessità di disporre di presidi adeguati ad assicurare la tutela della salute non soltanto degli scillesi, ma anche dei turisti che la popolano nei periodi a più alta vocazione turistica, ci si rende conto che la Casa della Salute è un'entità non trascurabile. È chiaro che bisogna passare dalle convenzioni, dall'aspetto procedurale alla realizzazione che ancora tarda e per l'appunto io vengo qui questa sera non a dire nulla, ma a sentire quelle che sono le osservazioni di coloro i quali conoscono più direttamente i problemi connessi proprio all'attivazione, alla realizzazione della Casa della Salute.